Altro festival festeggia la quinta edizione con un'estensione di date e di offerte. L'originario fine settimana di inizio autunno raddoppia con il 23-24 settembre e il 3 settembre 1 ottobre e se ne aggiunge uno in estate, il 29-30 luglio, mentre l'attività per bambini e ragazzi proseguono per l'anno scolastico 2023-2024. Phil Rouge, che ispira tutti gli appuntamenti, è il desiderio di raccontare un modo di vivere il territorio fuori dagli schemi consueti, mostrando come la bellezza si nasconda anche a pochi passi dalla città e come le esperienze più autentiche non abbiano bisogno di artifici. Al centro di tutto il progetto c'è il cammino come fonte inesauribile di scoperte di stupore, strumento per guardare il mondo con occhi aperti alla meraviglia. Approfittando delle chiavi lettura fornite dagli ospiti, dalle esperienze dirette e dalle pratiche sportive, i partecipanti potranno trasformarsi da viaggiatore che si mettono in cammino per raggiungere una meta inerranti, ovvero persone che godono degli incontri regalati dal percorso. Momento clu, la iglaina, la diga di Alpegera, il consueto appuntamento con gli esperti di funambulismo che sabato per tutto il giorno, collegheranno con una linea quasi invisibile i due versanti della diga camminando nell'aria sospesi nel vuoto. Altro Festival favorisce momenti di aggregazione della comunità locale attraverso il coinvolgimento delle scuole della Val Malenco e della provincia di Sondrio e dei residenti della valle per la raccolta di testimonianze, memorie dialettali e racconti funzionali alla strutturazione dei cammini e dei percorsi digitali.